Benvenuti a tutti voi di Abu Dhabi alla Formula One Exhibition High Peak Square. Io sono Mauro Bettinari, lavoro in Torro Rosso al Dipartimento Compositi. Il mio ruolo in Torro Rosso è quello del responsabile della produzione interna di materiali compositi in generale. Io seguo nella produzione il Dipartimento Compositi e il Dipartimento Machine Shop, realizzo i programmi di produzione, verifico l'arrivo dei materiali e faccio in modo che vengono rispettate le consegne per il Gran Premio seguente. Sono in contatto con l'Ufficio Tecnico per il Rilascio dei Disegni e seguo ogni particolare dall'inizio alla fine del processo produttivo attraverso i miei collaboratori che sono i Project Manager. Ciao a tutti, divertitevi all'esibizione di Formula One all'Ipix Square in Abu Dhabi. In bocca al lupo, incruciamo le dita per la studeria Torro Rosso nel Gran Premio di Abu Dhabi. Grazie. 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 Grazie.